Buongiorno dal Corriere di Sciacca, Giuseppe Recca e Filippo Cardinale in redazione. Oggi è martedì 3 gennaio. Sono 516 nuovi contagi covid segnalati dall'aspedia grigento nel bollettino diffuso ieri. Si tratta di dati riferiti agli ultimi tre giorni, con un morto a Porto Empedocle e tre nuovi ricoveri. I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono 5 in più rispetto al precedente report. 11 sono ad Agrigento, 6 a Ribera, 10 a Sciacca. In terapia intensiva c'è un paziente ricoverato all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Finì in ospedale il 9 marzo dello scorso anno per uno scompenso cardiaco e venne ricoverato. Il 2 aprile si registrò un rapido peggioramento delle condizioni di salute del paziente a causa di una infezione contratta durante l'adegenza fino alla morte che avvenne due giorni dopo. Oggi i familiari hanno citato in giudizio l'aspedia grigento e chiesto un risarcimento di 1.715.000 euro. Il comune di Sciacca cerca di tamponare la cronica emergenza loculi nel cimitero comunale. Scade il 31 gennaio prossimo il termine per la richiesta di concessione di un loculo cimiteriale. Grazie ad uno stanziamento di 140.000 euro verranno realizzati e messi in vendita 60 loculi, il costo di 2.500 euro all'oculo. La priorità verrà data a quelli che sono in attesa in ordine di anzianità di morte. La durata della concessione sarà di 99 anni a decorrere dalla data di assegnazione definitiva. Dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibili ricorsi carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Palermo hanno arrestato i sambucesi Giuseppe Tabone, 57 anni, e Vito Vaccaro, di 61 anni, accusati di avere favorito il boss Leo Sutera. Dovranno scontare la pena detentiva di 10 mesi e 10 giorni di reclusione. Un cinquantenne è morto nel Messinese ieri nell'impatto al suolo del parapendio con cui stava volando. Una donna che era con lui, una grigiantina, ha riportato diverse fratture e si trova adesso ricoverata in gravi condizioni. La vittima era originaria di Catania. Donna morta ieri a Bagheria, la figlia di 17 anni ha confessato di averla strangolata. Un'ennesima lite sarebbe stata alla base del matricidio. La vittima insegnava in una scuola elementare in provincia di Palermo dove era molto conosciuta e apprezzata da alunni e colleghi che adesso si dicono incredoli per quanto accaduto. Il chitarrista Francesco Buzurro torna a Sciacca con un concerto in programma domani, mercoledì 4 gennaio alle ore 19.30, nella Basilica Maria Santissima del Soccorso. Buzurro, nel suo One Man Band, con cui sta girando la Sicilia, propone grandi successi e anche ritmi natalizi. L'ingresso è libero. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata, restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.